Il parlamentare più ricco del Parlamento italiano e la sua ricchezza arriva a gran parte dalle consulenze che fa in Arabia Saudita. È noto a tutti che ha dichiarato 3 milioni di euro nel 2023 e il gran banco di questi 3 milioni di euro arrivano dalle ricche consulenze che va a fare in Arabia Saudita.